C'è qualche polemica sulla lista dei prodotti acquisibili con la carbone, c'è qualche polemica? Facendo il ministro dell'agricoltura ho teso a individuare quei prodotti per genere alimentare che avessero un consolidato nelle produzioni di carattere interno, quando si va sul fresco, quando si va sull'ortafrutta e ho consultato per questo insieme alla distribuzione anche i protagonisti del sistema produttivo dal mio punto di vista, che sono il mondo dell'agricoltura, dell'allevamento e anche i trasformatori, quindi l'elenco dei prodotti richiama per il 90% a produzioni che per la maggior parte derivano dal nostro territorio o possono derivare dal nostro territorio direttamente dalla produzione e alcuni, il cacao ovviamente, il caffè, dalle nostre eccellenti trasformazioni. Però il ministro sembra un po' che lo stato dica ai poveri cosa possono mangiare e cosa no. No, no, diciamo che ci sono quasi tutti i prodotti dell'alimentazione, si parla di tutte le carni, di tutti i pesci, dell'ortafrutta, della frutta, quindi se l'avete letta con attenzione valuterete che possono scegliere ampiamente quello che vogliono mangiare, figuriamoci se andiamo ad individuare che cosa nello specifico devono mangiare i nostri cittadini. Però se possiamo attivare degli investimenti da parte dello Stato con le risorse disponibili che attivino anche un'altra parte che è consumo, ma è anche filiere che danno lavoro, lo facciamo perché questo fa un doppio beneficio alla nostra comunità e credo che sia interesse di tutti agire in questo modo. Voi avete votato contro in Europa il ripristino della natura, la trasformazione e la salvaguardia e andrete avanti su questa linea. In maniera chiara e netta perché bisogna tener conto dal nostro punto di vista di quello che arreca un danno e non raggiunge gli obiettivi. Nel nostro avviso questo regolamento arreca un danno al sistema produttivo del quale sentiamo ancora maggior bisogno rispetto alle contingenze di carattere internazionale emerse soprattutto dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina e non raggiunge l'obiettivo di salvaguardare una sostenibilità ambientale perché limitare il mondo dell'agricoltura in maniera così netta e forte come si proponeva e per fortuna alcuni articoli sono stati ieri estromessi dal testo riduce il sistema produttivo, non avvantaggia il sistema ambientale di carattere globale che mette solo in condizione il nostro sistema produttivo di fare degli enormi sacrifici e questo non lo consideriamo un valore aggiunto. Dal nostro punto di vista la sostenibilità ambientale deve essere un obiettivo che deve viaggiare però sempre in parallelo con una sostenibilità economica che mette in condizione i primi ambientalisti che abbiamo, che io penso siano i nostri agricoltori, i nostri pescatori e i nostri allevatori, al contrario di quello che pensano altri. Ma io in base sui dati oggettivi, dove non c'è agricoltura, dove non c'è allevamento viene giù tutto per semplificare e lo abbiamo visto anche nelle aree colpite dagli alluvioni e negli ultimi anni dal dissesto idrogeologico che grava in maniera più decisa dove manca l'agricoltura e l'allevamento.